Il paese si chiama nocera giurinese ed è inalabria, il giorno cambia la messa, la forza pubblica tenta in vano di far rispettare la volontà del parroco il quale per alcuni anni sta cercando di indurre i suoi fedeli a rinunciare alla vita dei battienti, i battienti si tramandano da secoli una tradizione dalle origini oscure, al mattino del venerdì santo si strazzano le gambe ad un tampone di supero irti di frammenti di vetro e corrono a sfaggere nel loro sangue le strade sulle palle tra qualche ora, passerà la processione di Gesù iscriviti al rivale di Gesù di Milano No, 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 no. No, 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 no.